Si è da poco conclusa la prima puntata live di X-Factor 2024 presentata dalla cantante Giorgia in cui troviamo come giudici Paola, Manuel Agnelli e poi abbiamo Achille Lauro e Jack Lafuria. Nella prima manche si sono esibiti in sei i The Fools con una canzone di Salmo, l'ora con un brano di David Guetta featuring Mickey Minaj, poi le votive che hanno cantato Are You Gonna Be My Girl, poi c'è stato Daniel che ha cantato Milano e Vincenzo di Alberto Fortis, poi i Dimensione Brama con L'estate sta finendo e Mimica Ruso con una canzone di Anna Calvi. Al ballottaggio in questa prima manche si sono stati Dimensione Brama. Allora, nella seconda manche ci sono stati Patagarri che hanno cantato Tutti quanti vogliono fare jazz, quello tratto dagli Aristogatti, poi Elma ha cantato Rise, Pablo Murphy ha cantato una canzone di Taylor Swift, Francamente ha cantato Promises the Cranberries, i Pancake ha cantato Police on My Back e Lorenzo Salvetti ha cantato Margherita. Allora, in questa seconda manche ci è andato in ballottaggio Pablo, Pablo Murphy, e quindi Pablo Murphy ha dovuto sfidare Ibrama e erano tutte e due della giudice Paola, Paola Yezzi, quella di Paola e Chiara, Can't get out my head hanno cantato Ibrama, invece Pablo ha cantato S.O.S. degli Abba. I giudici, con i loro voti, hanno premiato Pablo Murphy e quindi l'eliminato di questa puntata sono stati i Dimensione Brama. Anche secondo me, per questa puntata, ci stava bene questa eliminazione. Ciao a tutti per il video!